Ma nell'ambito degli studi del comportamento alimentare noi stiamo cercando di portare avanti un modello riabilitativo costruito sulle buone pratiche italiane di trattamento. Si tratta di un modello che ha un nome, si chiama RPP, Riabilitazione Psiconutrizionale Progressiva, ed è un modello totalmente calibrato su quella che è la realtà della salute mentale italiana. Noi l'abbiamo ideato ormai in Veneto da una quindicina d'anni, lo utilizziamo in alcune strutture, viene utilizzato anche in alcune strutture delle Emilia Romagna ed è accreditato da più regioni. Si tratta essenzialmente di un modello che permette di prendere in carico pazienti molto gravi, anche con patologie psichiatriche associate oltre ai disturbi alimentari, e che promette una riabilitazione si intensiva, molto attenta agli aspetti sanitari, però calibrata sulle reali necessità e possibilità dell'utente. Questa cosa qua permette di gestire dall'età pediatrica fino all'età adulta senza grossi problemi. Quindi un modello sostanzialmente articolato per passi successivi, sia a livello ambulatoriale che nelle strutture residenziali che in ospedale quando occorre, partendo dalle capacità dell'utente in quel momento e introducendo progressivamente dei moduli, dei pezzetti e di alimentazione di psicoterapia in base a come l'utente evolve rispetto alla propria patologia. Noi in questi anni l'abbiamo ormai sperimentato su più di 3.500 utenti ambulatoriali, abbiamo fatto circa 50-60.000 giornate di ricovero riabilitativo con questo modello per 5-600 utenti, e ci sembra, se non altro, un tentativo tutto italiano e non sempre solo anglosassone, per quanto possono essere ottimi i modelli anglosassoni, di costruire dei percorsi di cura per i disturbi alimentari.